Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi, come puoi vedere, non siamo nel solito studio di Stats4Bets perché magari ti è capitato di leggerlo sui social. Negli ultimi giorni la mia compagna ha avuto un bruttarello incidente con il motorino quindi è stata in pronto soccorso, sono dovuto andare via da casa dove vivo per venire qui da lei e quindi questo video lo sto girando sostanzialmente a casa sua. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto veramente ho ricevuto una valanga di email, messaggi e quant'altro per farle in bocca al lupo se l'è cavata con, diciamo, niente di gravissimo anche se c'è qualche frattura, c'è un ginocchio così insomma, poteva andare molto peggio presa in pieno da una macchina con il motorino però, insomma, fortunatamente la situazione è tale da poter comunque girare un video non lo giro nello studio di Stats4Bets, però posso comunque girare un video perché comunque la situazione è, diciamo, abbastanza tranquilla insomma, tolto lo spavento iniziale, adesso va meglio cosa vediamo in questo video? Vediamo Champions League e Europa League ho analizzato, come al solito, tutte le partite che ci sono in programma ce le vediamo subito dopo la sigla benissimo, eccoci di nuovo insieme a me, come sempre, anche qui, quello che non manca mai il libraccio di metodo Stats4Bets questa volta lo studio l'ho dovuto fare un po' casareccio sempre tramite l'app di OneFootball app gratuita, trovo il link per scaricarla sotto in descrizione ma non avendo con me il tablet perché comunque è successo un po' tutto di fretta sono scappato via da casa in fretta e furia, ovviamente mi sono messo con il cellulare mi sono segnato le cose su carta e penna proprio eccole qui, e quindi ho usato il libraccio che tengo qui da lei come tablet, come supporto per lo studio allora andiamoci a vedere le partite che ci aspettano martedì, Barca United e Juventus Ajax, mercoledì Porto contro Liverpool e City contro Tottenham chiave qualificazione abbastanza indirizzata in quasi tutti i match perché credo che l'unico vero match che ci potrebbe riservare qualche sorpresa è quello del City mentre gli altri, tutto sommato, sono abbastanza indirizzati per il Barcellona un esito uno piuttosto scontato probabilmente anche over uno e mezzo casa se uno vuole andare sui gol se vogliamo cercare una giocata un minimo più rischiosa possiamo metterci il gol dello United quindi esito gol secondo me il Barca ha un paio di fa sicuramente quindi potrebbe finire 2-0, 3-0 ci potrebbe stare comunque per il potenziale offensivo che offre un gol dello United quindi magari 2-1 o 3-1 per il Barcellona Juventus contro Ajax questa è un'altra partita da cui mi aspetto almeno un paio di gol come detto all'andata quando gioco la Juve i bookmaker vanno sempre tendenzialmente sull'under però l'Ajax è una squadra tale che così come ha fatto l'impresa a Madrid cercherà di venire a farla anche a Torino quindi over uno e mezzo ce lo vedo tranquillamente vittoria da Juventus ovviamente favorita però se si vuole correre un rischio se si vuole cercare una giocata un pochino più azzardata ci sta anche l'esito gol perché l'Ajax per quello che ha fatto vedere finora un gol a Torino non sarebbe assurdo se lo realizza quindi se vogliamo stare più tranquilli over uno e mezzo se vogliamo salire un po' più di livello esito uno se proprio vogliamo cercare la giocata invece più difficoltosa esito gol per quanto mi riguarda poi abbiamo Porto-Liverpool Porto-Liverpool è quella più scontata ma proprio per questo diventa quella più difficile perché Liverpool si sta battendo anche in Premier League quindi va a Porto già con un 2-0 andando a Porto con un 2-0 non dico che farà giocare riserve ovviamente è fondamentale superare il turno però magari ci potrebbe essere qualche innesco qualche riposo mirato perché comunque è già quasi sicuro che passi per questo motivo la scommessa che mi sembra interessante è la possibilità del gol del Porto non lo so se Liverpool va proprio lì al 100% della forma mentale cioè comunque parti da un vantaggio buono 2-0 e quindi sai ti stai combattendo la Champions ha vinto cioè non la Champions oltre che la Champions il campionato ha vinto contro il Chelsea quindi match di alto livello è tornato in testa la classifica insomma potrebbe avere un minimo di così di momento di riposo mentale quindi ci potrebbe scappare il gol del Porto altrimenti x2 perché non ci vedo il 2 fisso proprio per questa ragione un Porto che magari vuol fare bella figura in casa è un Liverpool che non deve vincere a tutti i costi quindi potrebbe finire 0-0 per assurdo o 1-1 e quindi insomma x2 per stare più tranquilli arriviamo poi alla partita del City questa è una partita molto interessante perché il City parte dalla sconfitta dell'andata ha sbagliato il rigore con Aguero alla fine ha perso e quindi deve ribaltare il risultato partita interessante ma allo stesso tempo per il Tottenham le difficoltà più grandi vengono dalle essenze perché manca Keane principalmente manca anche la Mela potrebbe mancare anche degli Alli che infortunato non è in dubbio quindi con queste assenze importanti la vittoria del City e l'over 1,5 anche in questo caso solo della squadra di casa quindi come il Barcellona City over 1,5 casa sono veramente molto molto probabili altra giocata qui se uno cerca un rischio potrebbe essere il gol del Tottenham nonostante le assenze così importanti qui abbiamo come sempre una delle mie aiutanti che ci tiene sempre a partecipare ai video perché da quando c'è lo studio di Stats4Bets non partecipa più ma se vi andate a vedere i precedenti i primi video c'era sempre e adesso ecco qui ha deciso che proprio questo studio lo finisce insieme a me e e quindi questa era la Champions vero Gingy mentre per l'Europa League che ci abbiamo per l'Europa League ci abbiamo il Chelsea che parte dall'1-0 dell'andata anche questa giocata abbastanza senza grosse sorprese un nuovo esito 1 tranquillamente e probabilmente anche un over 1,5 esito 1 se uno cerca una quota un pochino più più alta cioè un pochino più bassa se cerca di alzarlo potrebbe metterlo con l'1 più over 1,5 partita che credo sia tra le più interessanti di queste quattro è quella tra il Francoforte e il Benfica si parte dal 4-2 dell'andata quindi da una grossa prova di forza del Benfica però sostanzialmente al Francoforte basterebbe un 2-0 per per qualificarsi quindi l'over l'over 2,5 mi sembra una delle giocate più più consigliate su questo match sono squadre entrambe che segnano molto over 2,5 e esito 1 oppure esito 1 secco senza l'over 2,5 mi sembrano le due opzioni più più interessanti da seguire sia perché il Francoforte in casa comunque ha un ottimo rendimento sia perché comunque gol ne dovrebbero arrivare gol dovrebbero arrivare anche a Napoli Napoli che parte dal 2-0 da recuperare contro l'Arsenal qui la nota negativa secondo me è che molto probabilmente assisteremo ad un gol dell'Arsenal quindi mi piace l'idea dell'esito gol Napoli troppo brutto all'andata per perdere nuovamente senza neanche fare un gol quindi esito gol mi piace all'esito gol immaginandosi un arrembaggio del Napoli ci metterei l'over 2.5 subito dopo come preferenza e quindi una visione globale da 1x over 2.5 esito gol scorporati in base alla difficoltà della quota che vogliamo raggiungere 1x da più tranquilla esito gol secondo me è proprio diciamo la giocata ideale oppure per alzare un po' il livello over 2.5 questa è un po' la visione su Napoli Arsenal visione finale complessiva dell'ultimo match che è quello probabilmente tra tutti quelli che abbiamo visto finora meno combattuto il Valencia ha vinto all'andata con il Villareal stanno vivendo due stagioni praticamente opposte perché il Valencia lotta per la Champions League il Villareal lotta per non retrocedere si è ritrovato in questi quarti di Europa League ma ha perso 3-1 all'andata quindi ben poco da chiedere a questo match proprio per questo motivo comunque perché il Valencia è ancora in lotta in campionato dovrebbe perdere 3-0 questo match per essere eliminata addirittura se perdesse 2-0 passerebbe comunque il turno non andrei sull'1 secco mi mi cautelerei con la 1x perché il tipico match potrebbe finire 0-0 1-0 1-1 non ci si aspettano tanti gol quindi 1x under 3.5 non mi aspetto un Valencia che in cerca della goleada cioè non ha senso sforzarsi così tanto in questo momento per un match già in cui sei praticamente già qualificato e in campionato comunque sta ancora lottando quindi 1x under 3.5 per chiudere su Valencia Villareal con questo credo di averti detto tutto perché penso uno potrebbe essersi chiesto perché c'hai il libraccio anche non a casa tua perché in realtà io dei libracci ce ne ho un po' sparsi ovunque e quando incontro persone che magari seguono i video oppure seguono il gruppo così mi è capitato ce l'ho sempre uno dietro così le ho regalo perché alla fine quando incontro persone che mi dicono ti vedo sempre su Youtube mi fa sempre piacere dargli un regalo e quindi il libraccio è sempre con me ci vediamo in un prossimo video un prossimo video Grazie.